C'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tetto, Tardelli, go, go, Tardelli, Rappoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli, e ci siamo con Pertini. Grazie a giocare nel dicesimo minuto del supplementare, va dentro il grosso, c'è Cannavaro, è uscito Close, che era il marcatore di Cannavaro. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tetto, tiro, go, 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 go. Gol di Grosso, gol di Grosso, manca un minuto, manca un minuto, gol di Grosso, gol di Grosso, è incredibile, è incredibile, siamo sopra il manco un minuto, siamo sopra il manco un minuto, gol di Grosso. Ancora sull'invenzione di Pirlo, molto bravo a trovarlo, grande gol. Paolo Rossi in difesa, contraattacco di Scirea. Conti, su Bentrarossi, Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, go, Tardelli, Rappoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli. E scusiamo con Pertini, 2-0, Tardelli ha raddoppiato, uno splendido gol. Al ventiquattresimo. Rappoppio di Tardelli. Ventiquattresimo del secondo tempo, 2-0 Italia, 0-0 Germania.